Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Contro cosa combattete? Combattiamo contro delle politiche che vogliono distruggere l'ambiente in un mondo dove l'ambiente è fondamentale per la vita dell'essere umano. Ma nel particolare della zona di Viareggio, indipendentemente dalla lotta ambientale, contro cosa combattete? Abbattiamo contro una politica che vuole fare un'asse di penetrazione su questo stupendo ambiente e vuole comunque stravolgerci la nostra vita di tigione perché questo spazio ci permette di correre, ci permette di camminare, ci permette di andare con la bici, ci permette di stare a contatto con ciò che fa sì che la nostra salute sia buona. Quest'anno, a proposito di questo, è il primo anno che l'incidenza tumorale è scesa e forse per te proprio lo stile di vita è migliorato, quindi dobbiamo anche mantenere gli spazi che ci permettono di mantenere la nostra salute. Scusa, ma voi, l'area, l'architetto, quello che ha pagato, l'architetto è quello lì che è sparato di Firenze, quello lì che è un gruppo, l'architetto, la barba, sì, è l'ultimo, il personale. ...rispetto all'anno scorso e speriamo che diventi sempre più inutrita perché chiaramente a livello di istituzioni politiche si parla molto di partecipazione, però poi spesso non c'è l'intenzione di farla veramente, quindi poi la si fa in un'occasione come questa. Grazie a tutti. Grazie.